un signore va dal medico perché ha sempre la tosse il dottore lo visita gli ascolti i polmoni e poi gli dice non è nulla di grave è solo un piccolo disturbo davvero dottore o meno male sì sì non si preoccupi è solo un piccolo disturbo che lei potrà risolvere definitivamente passando due settimane di vacanza al mare al che il paziente lo guarda perplesso dottore ma è sicuro certo che sono sicuro che domande mi fa lo sa lei che io faccio il medico da 30 anni e lei lo sa che io sono 40 anni che faccio il bagnino due amici si incontrano e uno propone all'altro una sera di queste andiamo a mangiare sushi ti piacerebbe no no lascia stare non mi piace il sushi come mai ma hai mai provato sì ci sono stato una volta ma ho capito subito che non faceva per me appena mi sono seduto mi hanno portato un sacchettino con dentro due soli grissini ma sapessi che duri che erano non sono neanche riuscito a mangiarli